Contro Angolo Blue, Haidt Abid Mohamed della New Box 2010, prima serie. Tre riprese da termine. Inizio prima ripresa. Tre riprese da termine. Tre riprese da termine. Tre riprese da termine. Tre riprese da termine. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Fine prima ripresa. Inizia seconda ripresa. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.